A Nairus non fa più parte del junk Bene Sì relativamente siamo sempre stati abituati Sin dalla sua uscita ovvero A Nairus uguale junk Però ho trovato un mazzettino mi sono fatto anche un paio di game E ho arrancato di mille di posizioni Vabbè che ormai sto prendendo gli schiaffi Ma questo ormai conta relativamente poco Vi ricordo come sempre che c'è il gruppo Telegram C'è il gruppo Discord e c'è il mio Instagram qui sotto sempre in descrizione E niente rega andiamo col mazzo Buona visione Ora gli schiaffi a cui mi riferivo io sono ovviamente Questo posizionamento qui di 8189 Però a noi non ce ne frega un cazzo Questo è il mazzo che andiamo a utilizzare oggi E come potete vedere è un junk Non è un junk classico E ovviamente ci sono anche altre carte Che funzionano tutte E mo vi spiego come In un certo senso Anzitutto cosa vuol dire junk Junk vuol dire spazzatura Junk vuol dire robaccia Junk vuol dire che tu gli dai dei pezzi all'avversario E lui ti maledice in tutte le lingue del mondo Questo mazzo vuole fare anche qualcosa in più Vuole andare a spingere sul fattore finale Con un Red Hulk Vuole andare a cercare di plugare due campi A cui fare affidamento con il nostro grandissimo Palla di cannoni infernale Che ormai lo sto amando Sta carta regali Non l'avrei mai detto E ovviamente noi cercheremo di andare a plugare Gli altri due campi Con carte come il Propix Come il Doc Ock Come Debris Come White Widow E come Green Goblin Poi ovviamente c'è Daredevil Che penso che è fondamentale Di turno 5 regali Daredevil è fondamentale in questo mazzo Come la stessa Ravonna Perché se ci pensate Ravonna Fa sì che si scorra tutto molto più velocemente Abbiamo il Goblin a costo 2 Abbiamo Professor X A costo 4 So finire le carte per Ravonna Però ovviamente fare il Propix di turno 4 Nella stessa cosa di farle il turno 5 Ok Perché è vero che noi abbiamo la sicurezza con Daredevil Però noi che cosa vogliamo andare a fare Vogliamo cercare sempre di plugare Due campi Ok Così che il nostro Cannonball Può fare la qualsiasi cosa E ovviamente Quando noi andiamo a plugare due campi Ricordatevi sempre L'off Prio Cioè il non avere Prio Al turno decisivo con Cannonball Altrimenti è un pochino complicata la situazione E mo' vediamo Anche perché Soprattutto in questo momento In cui è la settimana di dancio Di White Widow In cui ovviamente il Junk E Tear Attualmente è uno dei mazzi più giocati E so' contento di sta cosa Visto che non c'è la Un po' orto la mente Vede tra di noi E quindi E quindi Tu sei infinite Alias il boss Cazzuto Vediamo che cosa ci presenta lui Iceman Vabbè Iceman che mi prende Giusto giusto la carta Del campo Io posso anche godere Rete Fognaria Subito Jeff Guarda che sei bello Jeff Io non mi stancherò mai Di questa patina E un mille E un mille Dobbiamo fare molta attenzione Perché il mille Ci può cagare il cazzo In A livelli A livelli disumani A livelli veramente Disumani Magic A sto punto Non Green Goblin Devo allungare tutto Devo allungare tutto Anche perché La Magic Raga Serve quando noi Qualche modo Vogliamo allungare la combo La combo è sempre quella Noi dobbiamo fare il propix Dobbiamo fare il nostro Lock Lock Dobbiamo fare in qualche modo O Cannon Ball O Red Hulk Ok Quindi Vabbè Nebula Sì Nebula Ora io spero che A lui Quel Cable Non gli abbia regalato Chissà quale meraviglia Però boh Spero la White Widow A sto punto Daredevil ce l'ho qui E devo andare a giocarlo Che vuole il turno 5 Mi sa che è fondamentale Per noi E vediamo A sto punto Facciamo Daredevil E Valutiamo Meglio così frate Meglio così Anche perché Avessi tirato Quel Goblin Il mio Red Hulk A quest'ora Sarebbe un porco Che per carità Non che me ne voglia Questo mallino Gustoso Daredevil Vediamo che cosa ci becca Allora Io direi A sto punto Concentriamoci Sull'andare a giocare Dock Lock A sto punto Magari E dico magari Qui Qui Penso che si potrebbe fare Questo spazzettino Io penso che lo riempie In qualche modo No? Noi ci abbiamo giocato Il Dock adesso Ci abbiamo Red Hulk Io direi di buttarcelo Qui Red Hulk Sai? Anche perché così Noi lo attiviamo con Shang Teorie Mantastiche Dock Lock Lo butta lui Ah E Guarda A me fa anche piacere Questa cosa Io spero che non mi butti Cannon Ball A sto punto Dock Lock Dai Spero che lui Non abbia Jeff Ok Cannon Ball Ce l'ha lasciato Cannon Ball Ce l'ha lasciato Noi possiamo andare A spostare E Sì Ok Non prendere Shang A sto punto Abbiamo vinto Noi quella location Ok Noi l'abbiamo vinta Perché Nebula A sto punto Turno 6 Fa 10 Turno 7 Fa 12 Noi l'abbiamo vinta quella E siamo al posto così Poi Snappiamo Snappiamo Dai Snappiamo Tanto lui si ritira adesso Ovviamente Cioè Non ha che fare lui Non ha che fare A sto punto direi Anche Profix qui Che cazzo C'è frega Tanto ci abbiamo L'aprivo On devi dare Shang Capito Lì Perfetto Ok E Yondu Ci scarterà La White View E quindi lui Ci avrà Ravon e basta Perfetto Abbiamo vinto Tutte e tre location Mi sa Con questa giocata qui Perfetto Capito E lui Non ha che fare Lui non ha che fare Perché ovviamente È obbligato a quittare Appunto A posto E' molto divertente Comunque il Junk Attualmente Mi sta Mi sta convincendo appieno Ehm E so contento Perché dovete sapere Che io Allora infine Io e il Junk Prima di Annalus Non l'ho mai giocato Ok Prima di prendere Annalus A me quelle lettere Già terrorizzano Quando li incontro In qualsiasi gioco di carta Perché Eh Perché potete ben capire Quanto spingono Sti ragazzi No Stupesti dei Thanos Non posso fare battute E io prima Prima che io Giovassi Questo è un Galactus Addirittura Questo è un Galactus Ma coglioni Dobbiamo stare molto attenti A sto Galactus A sto punto E io direi Jeff Intanto Sai Io direi Jeff Qui Gli butterei Green Goblin A sinistro A sto punto Cercherei di mantenermi Tutta la location Per quel Galactus Maledetto E Potevi darmi Il Green Goblin Di prima mano Cosicché Selen Mi buttava Il meno Il meno Selli Korg The Wood Ma sai che forse Forse non è un Galactus Ok Korg A sto punto Qui c'è il Raft Bello il Raft E Green Goblin Ma facciamo il Green Goblin Intanto Io non so Non riesco A chiudermi E però Potrei fare Il Ravonna Potrei fare Il Ravonna E chiudermi Col Profix In qualche modo Non Non è bello Però Non è bella Questa cosa Però Non ci proviamo Demone Eh Non lo so Non lo so Sai Non lo so Io ti direi Anche White Widow Invece di Green Goblin Del Profix E Il Green Goblin Lo buttiamo qui Io non lo so Se si riempie lui Però forse È molto più È molto più safe Knull Fratello Ma è Knull Che Però Però ti posso dire Però ti posso dire Che è andata Discretamente bene Ti posso dire Che è andata Discretamente bene E Guarda Io già potevo fare Una roba del genere Guarda Guarda qui Io già potevo fare Una roba del genere Che palle Lo chiuderei comunque Lo chiuderei comunque Vogliamo buttare la roccia Abbuttiamo la roccia Metti che c'è Red Hulk Non l'ho snappato Regà Sono un deficiente Cioè Sono letteralmente Un deficiente Perché non l'ho snappato E questa era vinta Cioè È vinta Perché è vinta E Oh Dai capito È vinta Dai Lì pulito No frate Dai 7 7 7 7 7 7 7 su ogni cosa Beh effettivamente Il 7 7 Cioè Questo è l'importante Mi abbevero Ah Comunque Ti stavo dicendo In pratica Io ci avevo Annalus pinnato Nello shop Io l'ho preso Molto dopo Annalus Molto Dopo che È cessato Il suo periodo Di splendore E In pratica Ravonna In pratica Io non me lo so goduto Perché io Sono andato a prendere Allo shop Con i token Quando ormai Era stato nerfato E Le rocce Non glieli Potevi sfrutare In bocca All'avversario Pensa che Che fortuna Cittadina Deo slout Magic Ma sai che Quasi quasi Io togliere Cittadina Deo slout Perché Perché sì Che fondamentalmente Sì A me va molto comodo Alla volta Togli Togli lei Sì Togli quella location Poi che cosa C'abbiamo a fare Guarda che se Tu mi dess Cazzo Non è una bella cosa Diciamo che Il green goblin Io lo potrei anche fare Qui Il problema è che Poi come cazzo Vinco io qui Perché io Durno 5 Andrei a fare il profix A meno che Io non faccia Redulk Oppure il doc Il doc è una merda Il doc è una merda Sì Il doc è una merda Però io direi di fare Questa giocata Mi sembra più safe Sì Almeno ci facciamo Un'idea di quello Che butterà lui Capito Il green goblin Lì è devastante Ci abbiamo Un redulk Disarmante È brutta La volta La volta è brutta Con il doc Io non so Cosa potrebbe avere lui Ci facciamo unita Con Daredevil Intanto Brood E Nova Brood e Nova Io il doc Lo posso fare Io spero che lui Non abbia chi il monger In mano E io Io questa cosa La devo fare Questa cosa La devo tentare Di fare Spero che non arrivi A 10 A 12 Nel senso E che mi è servito Tutto ciò Brutta storia Brutta storia Brutta storia Brutta storia Brutta storia Mi ha Cluggato Cioè Mi ha Cluggato Mi ha Mi ha Loccat Tutte due Location Col senno Di poi Avrei fatto Magic Sulla volta Sai Però mi aspettavo Un silver Surfer Il silver Surfer Non lo incontro Dall'epoca di Cristo E tra l'altro Questo Usavo un silver Surfer Con Storm Bello Tony Montanaro Ma l'ho incontrato Prima Tipo off stream Che stavo Dio di cazzi Miei Andiamo Tony Andiamo Tony My man Vediamo Che Non mi ricordo Il mazzo Dell'avversario Non mi ricordo Con lei Capito Può essere Veramente Distruttivo Non mi direi Che mi fa La stessa giocata Lui Allora Wolverine Ah un destroy Verro C'è un destroy Lui Cazzo La botola di shui Forse Forse Non è bello Non è bello La botola di shui Lo toglierei Allora A sto punto Facciamo così E via Lui giocherà Carnage A sto punto No O per deadlock Deadlock Era più safe In effetti Pure io Ce l'ho Sta Variante Mamma mia Che brutta Variante Sembra che c'è Le sfere Del drago Quel coso E poi esistono Variante belle Di deadlock Guardate la pandarte La pandarte È fenomenale Debris Ma debri Non lo so Debris Non lo so Contro un destroy Quanto può essere Impattante Io direi di no Io direi di fare Il ravonna E basta A sto punto Ma ravonna Che cosa mi serve Per il prof Capito E Peccato che io C'ho il dock Ma non c'ho shank In questo mazzo Peccato Ravonna Ok Workbuster Guarda Possiamo tentarla Mi sa di fare una roba Col dock Possiamo tentarla Metti che non lo so Si allinano gli astri Null E lo mangio A Venom Per dire Magari proprio Giusto giusto Qui Oddio Va qui 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 Non se lo aspetta Esatto Non gioco L'usura da bagnaria Si Si Ma pulito Io perché metto Tutte le carte Strughiamo Dimmi che non distruggi Non hai teoricamente Carte da distruggere Oh cazzo Questa situazione A me non piace Questa situazione Non mi piace per niente Perché insomma Non è Non è Non è Non è bellissima Anche perché Allora io punterei a fare una roba Cioè tutto dipende Se lui si glugga qui Se lui si glugga qui Si potrebbe pensare di fare una roba E il problema qual è Il problema è che io Facendo qua Ho la ragione un attimo E poi vediamo se Se continuano o meno Perché io qua vinco attualmente Io se faccio in mezzo lui Vado a 14 E non risolvo nulla Perché non risolvo nulla No mi sa che mi conviene Andarmene via Il doc è stato Vabbè Arnizola Eh Meglio Meglio Arnizola Cazzo Meglio Però stava riuscendo Stava riuscendo la roba Con il destroy Il doc può essere Una bella play Visto che non c'era Non c'era più carta da distruggere Però c'era quel maletto di zola Limbo Bello La magic Mi sa che la magic Adesso starà in panchina Oh ma Simone bocce Però abbiamo Ravonna su Bella 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 Sai che Comunque Com'è andata da scorse Le scorse Ma a me questo rumore Io ormai Ho imparato a conoscere Il distretto X Io ormai ho imparato a conoscerlo Ravonna A questo punto Mirage Che cazzo prende Perché non me lo fai vedere Ma fammelo vedere Cosa butti Scusami Spero sia un green goblin Maledetto E a sto punto Ma sai che bella Sta roba Sai che bella Sta roba Ma io Ok Da bene Tu c'è red guard Non è neanche la sua carta Red guard Però io Con il distretto X Ormai mi sono imparato A snappare gli imbocca Agli avversari Adesso Omega Red Potrebbe essere una bella play Visto che Red Guardian l'ha utilizzato Io non penso che il distretto X Lì ha tutte le touch carte Del mondo Omega Red Potrebbe essere una bella play Anche perché lì Lì andremo a buttare Il nostro Red Hulk La cosa che sto pensando io È che con il distretto X Tu non puoi pensare Al turno dopo Tu al turno dopo Non ci devi pensare Tu devi andare Una carta grossa Bello Comunque Quel colosso Va bene Va bene Va bene così Va bene così E Maximus Guarda Maximus È una bella play Facciamo così e così A sto punto Poi di turno 6 Gli buttiamo un Red Hulk E chi si è visto Si è visto Ok E lo faccio arrivare a 7 Vabbè questo è vero Vabbè abbiamo vinto Sul Limbo Alla pimpine C'è stato il junk Di mezzo In questo mazzo Se vogliamo E Red Hulk Per forza di cose Red Hulk Allora lui ce l'avrà a Shang All'interno del suo mazzo Oh 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 Ehi 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 Oh che vi ho detto Il distretto X funziona Oh guzzia Viva i gatti Meglio i cani Frate Meglio i cani 1 o 2 Scusami Oggi comunque Me ne stai dicendo Di tutti i colori Oggi col picco Veramente Mi ha distrutto Il picco Il picco Mi ha distrutto Completamente Pure il Jeff Guarda qui Ehi White Widow Cioè nel senso Poteva avere la White Widow Che non mi cambiavo un cazzo A sto punto Debrì Va bene 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 a sto punto Ma che è un vivente Peggio Vogliamo provare a fare una roba Vogliamo provare a fare questo e questo E' vero che è una 0-3 Ok E' verissimo questa cosa Però alla fine Infine gli lungo un campo Cioè io Invisible woman Regà Mi sta avvenendo in mente Una roba Mi sta avvenendo in mente Allora noi abbiamo due possibilità Turno 5 Addirittura Modocca adesso Addirittura Eeeh Cazzo Mi vuol dire che lui Non ha ela Allora facciamo un'altra roba Facciamo il doc Intanto Facciamo il doc qui E ci assicuriamo questa location Ok Ci assicuriamo la location Lui adesso va a scartare tutto Intanto vediamo Infinello da Magneto Death Iron Man Ci aveva tutto Ci aveva tutto Ma fortunatamente non ha fatto Non ha pescato Quello che gli serviva Allora siete onesti Vi ho convinti o no A farvi sto junkettino Io spero che abbiate Cannonball Regà Perché so che molti di voi Non c'avete cannonball E so quanto fa penale Perché io l'ho preso martedì Possiamo dire Però ricordatevi sempre Quando giocate il junk Che c'è anche un modo Cioè Se la partita è anche a favore In qualche modo Che noi sappiamo bene Anche un destroyer Può essere distrutto Però sappiate che il destroyer Vi counter a bestia A domani